Rappresenta il Piemonte con tutte le sue province, l'installazione donata dalle scuole tecniche San Carlo alla Regione. L'opera realizzata dagli studenti è esposta nel giardino del Grattacielo, su un piano inclinato che permette di ammirarla al meglio proprio dall'alto. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori Andrea Tronzano e Elena Chiorino, i professori e gli studenti delle scuole tecniche San Carlo. La donazione credo che rappresenti bene quello che è, cioè il Piemonte. Il Piemonte è visto dai ragazzi attraverso questa opera scenografica, un'opera che è stata studiata appositamente dalle scuole tecniche San Carlo perché si vedesse dall'alto. Di questa opera possono fruire coloro i quali vengono in quest'area di giardino ma anche quelli che sono all'interno del Grattacielo. Ed è un ulteriore tassello di completamento. Noi abbiamo recuperato questo quartiere. Questo quartiere era diventato il quartiere dei cantieri perenni, il quartiere delle difficoltà, il quartiere che vedeva chiudere i negozi di attività. Oggi è il quartiere in cui c'è stato il maggior aumento del valore degli immobili. Realizzata in metallo ed erba sintetica trasmette un messaggio di solidità del Piemonte. A occuparsi della sua progettazione è il corso di scenografia che ha già collaborato con il Museo del Cinema in occasione della mostra su Tim Burton. Questa è un'opera fatta da ragazzi che hanno reso attraverso il ferro la solidità del Piemonte attraverso la plastica e l'erba sintetica l'ecosostenibilità e la sostenibilità di quest'opera. Quindi insieme lavoro e rispetto dell'ambiente. L'idea di realizzare un'opera dedicata alla regione Piemonte è nata la scorsa estate al termine di una visita del presidente Cirio e dell'assessore Chiorino alle scuole San Carlo. Dove era in programma la presentazione dell'Accademia Piemonte per il TAM e il Green Jobs. In quell'occasione il presidente ha visitato i laboratori della scuola tra cui quelli di falegnameria e scenografia ed è nata l'idea di pensare a un'opera da esporre negli spazi del grattacielo.